musica 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 che succede? niente la macchinetta non va andava benissimo? no no guarda ti dico la dimostrazione che la macchina funziona totalmente guarda questa è la biglia dell'intelligenza questa è la biglia dell'intelligenza questa è la biglia dell'intelligenza che? un paziente intellettivo a posto stiamo a cavallo dico la dimostrazione che basta prenderla in base al rimbalzo lo dico in un certo modo così in base al rimbalzo ma tra la sua altezza del rimbalzo uno riesce a vedere la efficienza della persona guarda prendi la pallina basta fare un lancio secco e vediamo l'altezza del rimbalzo guarda notare il QI di una persona quindi ti fa la dimostrazione che la macchina funziona perfettamente guarda 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 Grazie a tutti.